Adesso parli tu, hai rotto il cazzo Cristo Vai, due contro due allora Tanto prevedo che troveremo i livelli alti Perché sto gioco fa il peggio di lollo Poiché il gioco stesso ti posiziona Insieme ad altri giocatori del tuo livello Beh, come l'ultima volta Avevo giocato io, Nelson e Fede Abbiamo fatto la competitiva Quella con le abilità, no? E tu come sai Ero porco cane il joystick Non è neanche collegato No, devo giocare con tastiera Non mi ricordo un culo Dio santo, allora dove l'hai? No, no, sono da solo Esci Allora Stacchiamo una roba inutile Prenderei feriamento per il cretino Ma tantissimo cretino Cosa che da oggi mi guarderai con un occhio diverso Che cazzo è combinato? Ne togliere via una... La chiavetta wifi Perché c'ho la WSB sopra il computer E ho premuto il tasto per spegnerlo Mi sento terribilmente imbarazzato Sono un cretino Però sono riuscito in tempo ad annullare lo spegnimento Sono bravo Però sono un cretino lo stesso Ma che non si vede un cazzo Perché non si vede un cazzo? Si vede? Non si vede Non si vede Oh si si vede Metti Sono un genio Sono un genio Sono il demolatore Demolatore Sono il demolitore E vabbè Allora succhiami il cazzo Ok Oh La parata così Dove sbattere qualcosa Dove te raccomando il condisonatore Avrò fatto disinformazione Mastica Ma si Ma si può fare ogni tanto Questa è una sorta a porta vuota Ma mortacci l'ora E meno male che sono ritardati Ah sto sudando Una goccina Perché non faccio il condisonatore? Perché devo prendere la pila Metterla dentro E non ho tempo materiale per farlo Porco Ciao Non ci provare mica eh Grande scassi Me l'hai tolta di Uh uh Parata cazzo Sì Sono invincibile sono Come dice René Ferretti A cazzo di cane Dai tira Sì cazzo Sì Dai Jensen va fuori del cazzo Ed è dentro Porco Posso accendere il condisonatore Sai sto crepando un po' di caldo A me la febbre No No vabbè scassa Eh sì Sì sono arrivato io Oh 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 jeszcze Oh 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 Te la metti in mezzo così Ma vong'alfanca Aaaaa Eeeh Ma carina Eeeh E' iniziata Iniziata E' iniziata Quanti preoccupanti Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Prime Sì Sì Così O gli hai inviato il link di cattiveria Vai In ogni caso ci siamo Trasferiti Sulla locanda per adesso Perché no? Eh vabbè Sì motorino Eh sì Bomberone è arrivato Hai sentito scassi Sì hai scorreggiato più che il motorino C'è lo stesso motorino che è passato da Sinergo Quando fai video Mettimela in me Vai Cazzo sì Porca putta No no fa tutto gol No 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 Vabbè me ne vado E dopo E' colpa E' colpa dei francesi No rimedio Rimedio rimediato Rimediato Che bello incazzarsi di mattina Alle 1 Alle Ho messo c'è uno minuto Vabbè 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 No Brava Giovanna Brava Questi sono bravi bravi Però già gol Intanto scrivo ancora su whatsapp un attimo E guarda che lui è un campione Applausi per favore E non va portacci tua Bella Bello ridere sulle battute vecchi Di due anni Vabbè Eh che vai col gol Sė Vabbè Alexa Da ora in po' Chiamami pisellone Perché pisellone Devi Non vado mai Devi chi Oh la la Alexa applausi e non prende grande eh io ho chiesto a miss nelson hai chiesto autocolto io sono scemo ok? va bene? sono scemo mamma mia ma veramente guarda se magari tu non fai il doppio gioco alla python toffere spingila ti ho spento per prenderla ho detto non spingo non spingo per fargliela prenderla vedi qua ti ho spento apposto per prenderla e rily era perfetta ma è possibile che a me sto che il gioco mi devono scrivere tutti i tuoi ma porca cominciamo allora siate forti fatevi animo il signore tuo dio cammina con te non ti lascerà e non ti abbandonerà il signore stesso cammina davanti a te egli sarà con te non ti lascerà e non ti abbandonerà Alexa dimmi un verso del vangelo per favore perchè mi sono rotto e la dico io ogni giorno non è credente lei Alexa credi in dio? è scattata la webcam perché? sono bloccato da quanto sono bloccato e non me ne sono accorto? nooo vabbè ma allora non è possibile che porca voi in chat di merda porca troia non mi avvisate no giusto sono bloccato pezzi di merda che siete faceva ridere vaffanculo poi entro ovviamente al tab e mi ritrovo un gol che cazzo è successo? c'è qualcuno a FK io stavo a fare le cose belle quindi sono scusato fede culo? fede culo? me lo stai dicendo? fede culo? beh abbiamo recuperato dai siamo stati bravi li camparono sulla porta veramente mamma con la tendina con la tendina Dio sano ah signor Diego signor Diego prima di tutto benvenuto in famiglia secondo oggi purtroppo no nel senso che stiamo collegati su un server private dove puoi richiedere di entrare però deve essere il sommo fede ad accettarti falla a breve e pia dalle un culo ecco come cazzo sono finito così lontano ti è già spammato fin troppo ma guarda oddio io signore santi è il bombarolo bombarolo ti ho dato la botta in culo ti sta benissimo ti sta io porra non toghi temi signore non ha paura di nulla non so se mi chiede la speranza ma queste frasi batte di mer qui è il server discord privato no è vero privato un cazzo della locanda di lands of benches lights colui che fa space va a lights e ha messo in sé questo server qui per giocare tutti insieme se volete venire venite venite ovviamente fate le cose per bene fate un form fatto bene perché se no sono il primo a bannarmi dato che lì sono moderatore io quindi non lo so dato che comunque è fede quello che accetta purtroppo è fede quello che accetta fede vuoi dire qualcosa in merito no vabbè basta compilarlo in modo normale e poi si viene accettato l'esperto ha parlato sta a voi vedere cosa fare grazie per l'attuale ascolto e noi adesso facciamo un'altra partita cosa è successo ho attivato il salto dieci volte in un secondo oh mi ha fottuto dinosauro è fantastico no 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 cosa dici senti da un altro server perché non ho fatto quasi nulla non è una novità è bruttissima come cosa molto brutta ma non era dentro non era dentro l'ho presa guarda porca troia l'altra schifosa guarda c'avevo il culo l'ho toccata ok non era dentro così di cattiveria dai è il mio momento ma che cazzo sì cazzo sì oh 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 madonna madonna la scimmia che è in me la scimmia che è in me ma guarda quanta cattiveria nel far goal cazzo cazzo di spettacoli che siamo siamo degli spettacoli noi e volare su nell'universo tra nix che non sa come fare non sa come fare non sa come fare Grazie.